Siamo con Lanfranco che ieri è stato grande protagonista nella vittoria della Juniors del Fussano. Volevo chiederti un pensiero su questo bellissimo successo. È stata una bella partita, abbiamo vinto 4 a 0, un risultato molto importante per noi per questo finale, mentre oggi 1-0 a 0 che per loro vale la Serie D, a noi nulla. Quanto vi ha aiutato questo spazio che vi ha dato Piassi nel corso della stagione, per vincere? Sicuramente noi giovani con la Juniors ci ha aiutato tantissimo per crescere e per dimostrare che eravamo con quelli della nostra età. Così siamo anche con il tuo compagno di squadra. Anche tu oggi hai avuto spazio, contento? Sì, sì, sono molto contento e sto lavorando bene. Il mister oggi mi ha dato la possibilità di giocare e sono molto contento. Ecco, come ho chiesto a lei, quanto vi sta aiutando anche il fatto che il mister vi sta dando spazio? Sì, sì, sono contento che ci sia da spazio e giocare con i grandi impari di più e quando vai con i piccoli, quando vai con la Juniors devi fare bene anche per la domenica. All'ultima cosa, la festa dei giocatori della programma, quanto speri un giorno di poter essere il nostro gruppo? Beh, certo, tantissimo, sarebbe bellissimo. Grazie mille. Grazie mille.